Come funziona la gestione dei materiali di balki? Molto spesso la gestione dei materiali di balki può essere difficoltà nelle compagnie. Frequentemente il nostro cliente ci chiede per risolvere questo problema. In questo caso, prima dell'installazione del sistema di convegno pneumatico di RGS, l'installazione del balki si tratta manualmente, con una forte dispersione di balki nel ambiente lavorativo. Questo si tratta di un compromesso significativo nel costo di pulire e l'esposizione al rischio chimico per tutti gli operatori che erano forzati a portare il loro equipamento protettivo durante tutte le operazioni. La nostra soluzione è di automare il processo, inizialmente dall'installazione del balki in un silo con una fermata armata fino alla possibilità di formularvi ricette con la dosazione del peso del peso e pneumatico del balki nel balki, evitando qualsiasi dispersione di balki. In questo caso, l'operatore si tratta il balki nel silo per ripetere il balki usando un crano di rinforzata e tratta il spout sul nostro sistema di scelta per la disabilità. Le silo sono trattate in un piccolo vacuo da un collettatore dedicato sul balki. Il materiale di scelta è registrato usando le celli di scelta che registrano il peso e si comunicano con il sistema di gestione del cliente. I materiali diversi sono trattati in diversi silo in modo da un gradino di purità del balki, definito prima dalla analisi laboratorio. due volte la ricetta di scelta è montata per discharare le palki in una fulgata di fulgata e produrre nuovi ingoti. La ricetta è montata dal pannello grafico dell'olio elettrico e sempre comunicata con il sistema di gestione del cliente in modo da discharare i materiali dal servizio e processare le ordine di produzione. Il sistema inizia automaticamente il convegno e il dosaggio del peso delle palki che sono poi dischargati in un'opera speciale equipato con una scelta di scelta per dischargare il palki in una fulgata di fulgata. L'air usato per la convegno è filtrato da un filtro di bag e un filtro di sicurezza è posato all'interno della unità di scelta in modo da garantire sempre una operazione libera di fulgata. Concludendo la nostra installazione il sistema ha fatto possibile ridurre al minimo il rischio di esposizione chimica per trovare fulgata controllo del personale evitando la gestione manuale e la dispersione di fulgata l'ambiente lavorante è migliore e migliore con le seguite risposte in termini di mantenere e costi di sanità operatori beneficiano in termini di salvare tempo e esercizio perché il nostro sistema tratta automaticamente il convegno e il dosaggio delle fulgate l'automazione e l'interfaccia tra il nostro sistema e il sistema di gestione ha permesso aiutato al cliente di migliorare il processo di produzione con una vista della progressione verso l'industria 4.0 per частellare e Grazie a tutti.